Allora lei dove vuole andare? Ha un'idea? No, il vero non ha un'idea che fa, perché mi sono scattato, di cosa? Il lei vorrebbe portare un'universo da quel che aveva, sì, è sicuro di cosa, di voler portare un'universo da quel che aveva, sì, e cosa aveva? Una macchina, dei soldi, una moglie, una casa, grandi prospettive. Un trentino sarà lei, non alzi la voce con mezza, e lei non usa il mezzo di chiamare il capitino, guarda che mi ha chiamato più fino prima lei, ma lei la fa prima ancora. Senta, non mi costruisca per la rimanere di sua madre, rimanere di mia madre, cosa sa lei di mia madre? L'ulta, ma giudicare dal figlio di bustana che è lei, io sono pure figlio di bustana, ma le mamme di una tanta donna, va bene? Non siete i cagliumanti che fanno più meglio e volenticare. Grazie.